Musica Siamo tra amici quindi possiamo cominciare quando vogliamo Ok Mette gli occhiali e ci siamo Questo discorso parlerà della tecnologia digitale e della nostra libertà Molti sostengono che avere accesso ai costi è un giro perché questo ci dà la libertà E una società digitale dovrebbe essere migliore Per questo tutti dovrebbero beneficiare di questo diritto nella società digitale Questa è un'affermazione di cui dubito La società digitale può essere sia buona che cattiva Può darci la libertà oppure può portarcela via Quindi è un sbaglio presumere che l'inclusione digitale sia un oggettivo che vogliamo Se vogliamo farlo giusto Dobbiamo assicurarci che la società digitale sia buona Non voglio parlare di un divario digitale Perché questo implica che usare la tecnologia digitale sia una cosa positiva E gliora i problemi che la rendono buona o cattiva Quindi quali sono le minacce alla nostra libertà date dalla società digitale? La prima è la sorveglianza La tecnologia digitale Può sorvegliarvi attraverso il vostro computer Molti programmi proprietari hanno delle caratteristiche che spiano E smandano informazioni su di voi a qualcun altro Per esempio Windows Windows The spy phone As they call it now The spy phone invece dell'iPhone Quindi il telefono che sia Flash player has a surveillance feature Flash player Anche ha questa caratteristica L'Amazon Kindle L'Amazon Kindle Surveillance features A queste caratteristiche di sorveglianza Quindi queste sono inizite nel software che mandano dati su di voi e sull'utilizzo del computer Possiamo essere sorvegliati attraverso i metri che utilizziamo per comunicare sulla rete Per esempio il data retention che è stato imposto dall'Unione Europea Che richiede a quelli che forniscono internet di conservare delle tracce Su di voi e sulle persone con le quali parlate E conservate anche Questa è una sorveglianza della vostra connessione a internet Quindi non potete prevenirla attraverso il vostro computer Non avete il piano controllo La sorveglianza può essere fatta Anche da altri sistemi Per esempio Tutte le macchine sono sottoposte a sorveglianza Dove dovute vadano Che fondere le camere sulla strada E vedono le targhe E vedono esattamente dove ogni macchina sta andando La sorveglianza Quindi digitale sarebbe il sogno di Stalin Anche i telefoni cellulari Possono sottoposte a sorveglianza Hanno un sistema GPS Per determinare la locazione esatta E' una cosa esatta che ci troviamo E quindi Possono essere maneggiati in tal modo da mandare queste informazioni Non potete fermarli Ma anche senza GPS Il sistema può determinare la locazione esatta del telefono Paragonando quando arrivano i segnali A diverse frequenze Possono determinare dove si trova il telefono Anche senza quindi la cooperazione del telefonino La locazione può essere individuata Ed è impossibile evitare Il telefono non può ricevere telefonate Se il sistema non sa dove si trova Quindi è un sistema di sorveglianza In molti casi di questi telefoni Possono essere trasformati In comandi remoti O sistemi per ascoltare E possono trasmettere il segnale A questo come dicevano Senza dare un'indicazione che lo stanno facendo Effettivamente Quindi possiamo chiederci se questo ha un bug Oppure se è un bug Quindi è un dispositivo per essere ascoltati Perché il telefono Quando è accenduto Può trasmettere il suono intorno Non devi neanche parlare al microfonino Perché tu venga ascoltato Può ascoltare tutta la conversazione Questo è il motivo per il quale io non ne possiedo uno Non sono uno di quelli che Quindi finalmente Dicono che sia noioso Della tecnologia E continua ad usarla Perché sarebbe conveniente Utile per me avere un telefonino Ma Non se mi sorveglierà In qualche maniera Non lo prenderò Quindi c'è un risparmio Se qualcuno Ha scritto Che Conresti adere Uno strumento per servizi Portatile Così sappiamo dove siete E che può essere utilizzato Per ascoltare le vostre conversazioni Avreste detto Certamente no Sì è idea orribile Ma io lo dico ancora Adesso In una società Non vi viene garantito l'anonimità in quello che fate Se camminate la strada È sempre possibile che qualcuno vi possa vedere Vi possa riconoscere E ricordarsene più tardi Ma questa informazione è diffusa Per cui non è facile da utilizzare Chiunque dovresti usare questa informazione per ritracciarvi per fare una forza Per arrivare l'informazione Quindi viene fatto solo quando è veramente necessario Ma la sveglianza digitale raccoglie l'informazione In una forma concentrata In una forma concentrata Che può essere guardata da chiunque Questa concentrazione dei dati è molto pericolosa Perché può arrivare alla repressione Quando la gente ammette che il loro governo Concedere con la repressione Prendono delle cause Quindi non chiamano gli altri cosiddetti dissidenti al telefono Nel fatto che possono comunicare